Ragazzuoli, bentornati sul mio canale, io sono Laser, oggi siamo su Brawl Stars, comunque più o meno siamo su Brawl Stars perché andremo a fare la tier list di tutti quelli che sono gli Hyper Charge o Overdrive in italiano che sono attualmente presenti in gioco. Dovrebbero essere 30, se non vado a dire capolate. Prima di incominciare vi ricordo, mi raccomando, un pollice in su per il supporto e iscrivetevi a tutti gli iscritti. Let's go, andiamo! Allora, come vedete qua ragazzi ci sono i vari Hyper Charge, alcuni non li vedete perché sono coperti dalla mia cam però ragazzi non vi preoccupate, man mano che andremo a spostare gli altri, questi sbucheranno. Allora, incominciamo dal primo, Dynamike. Ragazzi, l'Hyper Charge Dynamike lo sapete più o meno tutti. Quando lo attivate e tirate la ulti, esplode il bombolone e poi successivamente vengono lanciate tante piccole dinamiti attorno. Quindi è come se fosse ragazzi ulti più il gadget famoso di quello che gira e lancia i propri lingotti. Quindi, detto che fa tanto danno e poi queste bombette di lato, se non ti sciotta la bomba grande, ti sciottano loro. Ragazzi, io lo piazzo sulla B. Lo piazzo sulla B perché comunque ragazzi nella A e nella S ce ne saranno altri. Probabilmente in corso d'opera potrai anche cambiare. Ora, abbiamo l'Hyper Charge di BB che questo ragazzi è una seccatura in un modo indecibile perché voi utilizzate l'Hyper, abilitate, ragazzi, e le bolle diventano qualcosa di incredibile perché ti colpiscono, raddoppiano, poi ne lancia un'altra, colpisce un'altra, raddoppia, ti ricolpisce, raddoppia. Ragazzi, diventa tipo un campo da paintball, ti arrivano le palline di sopra e ti massacrano, che tra l'altro fanno pure malissimo. Quindi, quindi io questo qua ragazzi... No ragazzi, BB la mettiamo nella A e va bene così. Abbiamo adesso l'Hyper Charge di Bull che è tanta roba perché l'Hyper Charge di Bull ragazzoli è quell'Hyper Charge che ti permette di subire una fracca di danni ma in realtà riceverne veramente poco quando utilizzate la ulti. Tanta tanta roba, l'ho usato un bel po' e mi è veramente piaciuto. E questo qua ragazzoli direi di metterlo nella Tier A insieme a BB perché è tanta tanta roba. L'Hyper Charge di Spike. Ora, l'Hyper Charge di Spike è uno di quegli Hyper Charge non che dà fastidio di più. Perché? Intanto l'ampiezza della super ragazzi è immensa. Poi ti rallenta una fracca. Ti fa male un botto. Ragazzi, cioè se voi utilizzate questo Hyper Charge in una mappa come Dominio ad esempio, siete sicuri al 100% che vi prendete il posto, fate la kill e camperate che è una meraviglia. Quindi ragazzi, questa, questa io ve la vado a mettere nella S perché è veramente tanta roba. Un altro Hyper Charge che io vi vado a mettere assolutamente nella Tier S è quello di Cordelius perché ragazzi già Cordelius è un brawler sbroccato perché con la ulti ti prende e ti porta via. Quindi già di base arrivato a giocare 2 contro 2 e se ti riesci a killare 3 contro 2, tanta roba. In più con l'Hyper Charge ragazzi avete la possibilità di rallentare, e non poco, rallentare il brawler avversario all'interno sempre del mondo quello di Cordelius. Quindi ragazzi questo secondo me è uno dei più forti in assoluto, ma proprio fortissimo. Passiamo adesso all'Hyper Charge di Charlie. Allora, l'Hyper Charge di Charlie non mi fa più di tanto impazzire, però ragazzi è una sorta di Hyper Charge come quello di Dynamike. Quindi ulti più gadget. Questo perché? Perché con l'Hyper Charge una volta che tu imbozzoli il brawler avversario sponano i 3 ragnetti. Se non riuscite a imbozzolare il brawler spuntano comunque i 3 ragnetti. Quindi forte, sì. Però non più di tanto, infatti mi sa che lo vado a mettere nella sezione B insieme a Dynamike perché sì, ok, ci sta, ma non è forte tipo come quello di Bibi. Passiamo ragazzoli all'Hyper Charge di Jin, di Genio, che è uno degli ultimi Hyper Charge introdotti che ancora non ho trovato, però vi devo dire che l'ho visto. L'ho visto giocare. Raga, non è che è tutta questa roba, sì, per carità, ti partono tre mani, ma non è che è così tanto forte, non è che è utilissimo. O meglio, non è utilissimo come quelli che abbiamo appena elencato sopra. Quindi, ragazzi, personalmente io questo Hyper Charge non mi sento di metterlo nella parte D della tier list perché ce ne sono alcuni che vanno in quella parte, però nemmeno nella B. Quindi, ragazzi, questo va diritto all'interno della sezione C. Arriviamo all'Hyper Charge, forse uno dei più forti in assoluto, ovvero l'Hyper Charge di Bell, che, ragazzi, perché è forte? L'avete presente il gadget di Piper, quello che fa sì che il proiettile insegua leggermente il Brawler? Ecco, questa è la stessa cosa. Voi abilitate, dopo aver attivato l'Hyper, e la ulti di Bell va a inseguire l'avversario, gli toglie una fracca di danno una volta che lo hitta, e tutti i colpi a venire sono moltiplicati, fino a quando, per niente, non lo killate, ragazzi. Qualcosa di sbroccatissimo. Infatti io sono tentato di metterlo nella tier S, perché è veramente tanto forte, e mi sa che lo andremo a mettere nella tier S, ragazzi, perché è sbroccato. Siamo arrivati, ragazzi, all'altro leggendario con l'Hyper Charge, ovvero Leon, o Leon, che dir si voglia. Ragazzi, di questo Hyper è tanta roba, perché, appunto, una volta utilizzato l'Hyper e dopo la ulti, voi, per tutta la durata della ulti, potete sparare, farvi colpire, qualsiasi cosa, ragazzi, non venite spottati. Ed è utilissimo, soprattutto per fare quei gol, tipo ladro, che sbucata all'improvviso. Incredibile. Quindi, molto, molto forte, non fortissimo. Quindi, ragazzi, io mi sento questo qua, di metterlo nella sezione A della tier list, perché sì, è forte, non fortissimo, però va bene così. Arriviamo all'Hyper Charge di Corvo. L'Hyper Charge di Corvo, ragazzi, è un Hyper Charge molto forte, ma che al tempo stesso non rende. Questo perché? Perché quando Corvo ulta e quindi ti jumpa di sopra, i proiettili partono, i coltellini di Corvo partono, poi ritornano indietro, quindi fanno il doppio danno. Qual è il problema? Che se tu sei lontano, ti prendi la metà dei danni, perché non hai il danno da jump e il danno da ricaduta di Corvo. Quindi, diciamoci un pochettino alla verità, è forte, fortino, però non fortissimo. Infatti, ragazzi, per questo motivo io lo metto nella sezione C, cioè l'unico punto in cui è forte questo Hyper Charge è rapina, con il boost di Raph, del colonnello, e magari con la torretta di 8-bit. Là è broken. Cioè, in quel caso è proprio rottissimo. Ragazzi, siamo arrivati all'undicesimo Hyper Charge, quello di Fang. L'Hyper Charge di Fang è tanta roba, perché già di base la ult di Fang, con la star power, quella che ti ricarica il colpo per ogni kill, broken totale. In più, con questo Hyper Charge voi avete la possibilità di attraversare completamente i muri. Troppo, troppo rotta. Questo qua, ragazzi, ve lo metto nella tier A. Arriviamo adesso a uno dei primi, comunque, Hyper Charge rilasciati, quello di Pearl, che, ragazzi, vi devo dire, non mi è mai, 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 mai piaciuto. Cioè, sostanzialmente, fai un danno incredibile quando usi la ulti, e poi... basta. Cioè, non è che sia esplosione incredibile, bella, va bene. Ma poi, di base, ragazzi, non è come quello, ad esempio, di Bull, che subisci molti, molti meno danni quando fai la ulti, oppure quello di Bibi, che quando colpisci, la palla si divide, se ti ricolpisce, fai ancora male. Questo ability esplode, in maniera incredibile, l'area attorno a Pearl, però, di base, non è questa roba così incredibile, potente, super non plus ultra. Mi dispiace, spero di non essere troppo contro i vostri pareri, ragazzi, ma io lo vado a mettere accanto a Corvo e a Jin. Hyper Charge di Colt, ragazzi, questo Hyper Charge veramente tanta roba, questo perché? Perché già, devi essere bravo per utilizzare Colt con la ulti, con i colpi normali, per prendere abbastanza l'avversario, in più, con la Hyper, la tua ulti, hai il doppio dello spessore, che non è poco, ragazzi, c'è il doppio dello spessore, vuol dire che hai un camion che ti viene di sopra, sostanzialmente, e fa pure molto male. però, qual è il problema? Che se tu riesci a schivare i primi due colpi, è difficile che poi ti vada a prendere, quindi, non è proprio così tanto forte, ragion per cui, ragazzi, io ve lo vado a mettere a metà classifica, bello, carino, sistemato lì, e sta. Adesso, siamo arrivati a quattro degli Hyper Charge preferiti dal sottoscritto, che sono quello di Jesse, Lou, Colette e Buzz. Allora, ragazzi, sono veramente tanta roba, già ve lo dico, Jesse e Lou, ragazzi, li metto nella sezione S, perché? Perché la torretta di Jesse con 9.900 e passa, capì? Con il gadget del rallentamento, con la star power che la curi, ragazzi, ci sono mappe tipo dominio, ci sono mappe tipo rapina che la piazzi e non la togli mai più. Quindi, ragazzi, troppo, troppo forte, stessa cosa Lou, con l'Hyper Charge la ulti di Lou diventa istantanea, quindi la tira ti colpisce ghiacciato. La cosa bella di questo Hyper Charge è che si ricarica subito. C'è lui, se ghiaccia un brawler e lo killa, ne ha già un altro. C'è un massacro, ragazzi, un massacro. Troppo, troppo forte, merita di stare al top degli Hyper Charge, quindi, su questo non accetto discussioni. Ora, arriviamo agli altri due, Buzz e Colette. Colette, ragazzuoli, veramente un bel Hyper Charge perché, come sapete tutti, una volta utilizzata la ulti con l'Hyper Charge, parte Colette, gli parte l'ombra, Colette torna, torna l'ombra, il clone, la copia, che fa un botto di danno, soprattutto dove, in rapina, ragazzi, perché in rapina questi Hyper Charge fanno il devasto. Veramente tanta roba, infatti, questo Hyper Charge ve lo metto pure sul tier S. Ora, parlando di quello di Buzz, quello di Buzz, ragazzi, è veramente bello. all'inizio era broken, cioè proprio distruttivo perché qualsiasi hit, che fosse questo un hit sul muro, su una torretta, su un brawler, qualsiasi hit stunnava. Adesso, ovviamente, l'hanno cambiato, stunna una volta che colpisce il muro, ok, ma se tu sei bravo a utilizzarlo, ragazzi, fate il devasto perché comunque l'aria di impatto sul muro è enorme. Quindi, se avete il brawler accanto, hittate sul muro, lo colpite, rittate sul muro, ciao, cioè quello non si può difendere. Però, si che metterlo nella tier S, lo mettevo nella tier A. Hypercharge di Maxine, uno degli ultimi aggiunti, ragazzi, questo Hypercharge insieme a quello di Sandy è veramente tanta roba. Cioè, sono tutte e due Hypercharge fortissimi. Questo perché? Perché intanto l'Hypercharge di Maxine velocizza i brawler per molto tempo, fa un botto di danno e si ricarica subito. Quindi è veramente, veramente rotto. Però, però, c'è da dir un però. Tra questo di Maxine e quello di Sandy, ragazzuoli, io metto Maxine nel tier A e Sandy nel tier S. Perché, raga, quello di Sandy è devastante. Perché? Tu lo tiri, ragazzi, e blocchi il colpo degli avversari per non so qual, forse mezzo secondo, un secondo, non lo so. Comunque, gli fai un danno. Incredibile, perché oltre a impedire agli avversari di colpire, questa ulti è la ulti di Maxine integrata con Sandy perché velocizzi tutti i brawler all'interno della ulti. Quindi, ragazzi, è veramente qualcosa di osceno. Indovinate qual è l'unico hypercharge che non trovo? Questo! L'unico che voglio e non lo trovo è questo! Porca miseria! Ora, siamo arrivati agli hypercharge di Jackie, Brock e Miko. Allora, partiamo già dal presupposto che l'hypercharge di Miko, ragazzi, è una porcheria indecente perché l'hypercharge dura una ulti, una ulti soltanto, perché voi dovete utilizzare l'hypercharge, ultare, e il tempo che tornate a terra è finito. Quindi, se siete bravi e colpite il brawler lo stunnate, se no avete perso l'hypercharge. Quindi è proprio qualcosa di indecente. L'hyper di Brock, ragazzi, non è che faccia proprio schifissimo, però è stato dimostrato con vari video, vari youtuber l'hanno provato, che la ulti di Brock con l'hyper fa molto meno danno della ulti di Brock senza hyper. Per questo motivo io ve lo metto nella TRC perché veramente non si può un hyper attivare l'hyper l'ulti e fai meno danno e l'ulti normale non si può. Anche se comunque graficamente sembra che faccia molto più danno perché spara un miliardo di razzi. Ma non è così. Mentre per quanto riguarda l'hyper di Jackie, ragazzi, troppo troppo bello, la velocizzi. Quando usi la ulti rallenti in un modo indecente, fai un malecane con l'abilità stellare che ti permette di ridare i danni che subisce agli avversari. Sei devastante, ragazzi. Questa qua, per me, va di base nella TRS. Proprio troppo forte. Siamo arrivati adesso all'hypercharge di Nita, Tick e Macy. Tra l'altro mi dà molto fastidio che l'hypercharge di Nita sia così piccolino. Comunque, l'hypercharge di Nita è tanta roba perché ti tira quest'orso Bruce che secondo me ha fatto anni e anni di palestra con una fracca di vita, una fracca di danno e veloce. Quindi, non è fortissimo secondo me da stare in TRS, però secondo me, ragazzi, in TRA ci sta di diritto perché veramente ti trovi questa montagna di sopra che ti arriva tutta quanta così fa tanto male e nel frattempo Nita fa il devasso dietro quest'orso. Per quanto riguarda l'hyper di Tick, iiii, ragazzi, non lo so perché voi utilizzate l'hyper, tirate la ulti, la ulti esplode e tirate, credo, sei colpi caricati che fanno un botto di danno. Ok, ma dove puoi usare una cosa del genere? L'unica modalità dove vedo questo e dove vedo che fa tanti danni è quella sorta di bug che c'è in KO, ovvero che tu tiri la testa verso la fine del round, killi allo spawn l'avversario e quando gli altri rinascono hanno tutte le bombe davanti e mugliono instant. Però non è così tanto utile. Quindi, ragazzi, non mi sento di metterlo allo stesso livello di Miko, però, ragazzi, nel TRC ci sta, sicuro. Per quanto riguarda l'hypercharge di Messi, ragazzoli, poco da dire, un hypercharge devastante. Messi, uno dei brawler più difficili perché comunque il colpo è difficile da hittare, però l'hypercharge e la ulti fanno un male cane, ti rallenta di base la ulti. Con l'hypercharge fa molto più male, in più ti partono, credo, cinque colpi da tutta l'hyper che colpiscono gli altri brawler e fanno un male cane, sei più veloce, ragazzi, questo hypercharge assolutamente in TR A. Siamo arrivati, ragazzi, agli ultimi cinque hypercharge, hypercharge di Edgar, Shelly è il primo, Semino è rosa. Quello di Semino, ragazzi, una cacata abominevole, non ne voglio nemmeno parlare, ve lo metto nel TRD insieme a Mico perché è inutile. Per quanto riguarda l'hypercharge di Shelly e di Rosa sono entrambi broken, cioè molto molto forti, però, a mio avviso, l'hypercharge di Rosa è leggermente più forte di quello di Shelly, infatti li divido così, perché Rosa, ragazzi, quando utilizzate la ulti possiamo dire che è molto simile a quello di Jackie perché vi si mette lo scudo, tutta l'aria attorno rallenta e fate un danno incredibile, mentre quello di Shelly avete semplicemente la ulti molto più potente. è vero che l'accoppiata ulti più gadget è devastante, però, ragazzi, secondo me va bene quanti era. E gli ultimi due hypercharge rimasti sono Edgar ed El Primo. Per quanto riguarda quello di Edgar, ragazzuoli, forte, sì, in rapina, e basta, perché sostanzialmente voi lo utilizzate e caricate le munizioni velocemente e fate molto danno, però, oltre che in rapina, non so dove voi possiate metterlo, quindi, ragazzi, io ve lo metto in C, mentre quello di El Primo ancora devo capire l'utilità, perché è una ulti che colpisce molto di più e avvicina a sé. Il problema qual è? Che questo avvicinare a sé i brawler non è sempre conveniente, cioè, non è sempre la migliore delle idee. È molto utile perché sciotti i brawler con poca vita perché fai veramente tanto danno. Ma vi immaginate voi utilizzare la ulti sopra una Shelly che magari ha la sua ulti a disposizione? Mmm, non lo so. Ragazzi, questo qua lo rimettiamo pure in Tier C. A inizio Tier List vi avevo detto che forse avrei fatto qualche miglioramento, però, devo dirvi, non penso, perché mi sembra corretta così la Tier List e è una Tier List ovviamente personale. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti dove avreste messo i vari hyper chat e i ragazzoli. Mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanellina così da non perdervi giveaway di skin, Brawl Pass, cose incredibili. Un bel pollicione in su per il supporto e noi ci diamo tutti i giorni con un nuovo video e una nuova like. Ciao!